a metterle la macchia wow balliii ah facciamo dei club fammi fare il stigino la mano è la tecnica dai che fermo qui dai curva io pierdo la curva e come funziona? ahahah si come funziona? nome? evanuela da dove vieni? napoli cosa ti piace fare il sabato sera? andare a ballare in discoteca, minigonne o gizz attilati? in discoteca solo in discoteca un ragazzo ti piace peloso o depilato? peloso come te due al primo appuntamento solo baci o tutto il resto? tutto il resto da quanto tempo non fai l'amore? da 2 anni descriviti in 3 parole solo pazza, pazza e pazza e questa era a manuela se sei interessato a manuela andiamo a casa peruni ora l'ho persa nome? brago lo scriviti in 3 parole brago il sabato sera cosa ti piace fare? aia qual è la tua marca di vino preferito? savernello savernello al primo appuntamento solo soffoconi o anche tutto il resto? tutto il resto è tutto il resto eh? è brago mamma mia bevi le fai la lua il nome aia aia non man Grazie a tutti.